Minacce, estorsioni e spaccio di droga a far crollare il clan cesarano è stata la denuncia di un imprenditore che opera nel settore delle slot machine, scoperchiato così un sodalizio criminale con le mani sul territorio di Castellammare, Pompei, Santa Maria la Carità e Scafati, operazione antica morra della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea ha eseguito 20 misure cautelari in carcere ai domiciliari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone, contestati i reati di associazione a delinquere di stampo camorristico, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, pizzo in posto a imprenditori e commercianti, così come il noleggio di slot machine, affiliati al capo di società di intermediazione trasporti per poter monopolizzare le spedizioni di fiori del mercato di Pompei. I proventi del clan erano poi reinvestiti in nuove attività in mano a prestanome. Finirai sulla sedia a rotelle, ne esci con il cucchiaino, nelle intercettazioni telefoniche, le minacce subite da imprenditori e commercianti utilizzate dagli indagati delle schede intestate ad ignari e extracomunitari. Tra gli arrestati il capo clan Luigi Di Martino, alias So Profeta, era in prova ai servizi sociali e i suoi uomini di fiducia Giovanni Cesarano, detto Nicola, e Agnello Falanga.